Presidente, una sinergia importante con Eboli per valorizzare i talenti del Sud? Sicuramente un'occasione importantissima in cui giovarci, avvantaggiarci della disponibilità del maestro De Pasquale che rappresenta una grande esperienza professionale con la sua carriera, con il suo curriculum di inventore della televisione italiana degli anni d'oro e che mette a disposizione questa esperienza per creare una nuova eccellenza sul nostro territorio, l'Accademia Nazionale della Televisione e dello Spettacolo ha a Eboli una realtà importante del nostro territorio provinciale per fare formazione rispetto a coloro che vogliono e che possono accedere a questo mondo che, come è stato spiegato, dà delle notevoli possibilità di sbocco occupazionale. Naturalmente è un settore che ha bisogno, oltre che del contenuto, del talento e delle capacità, anche di una formazione professionale adeguata perché sappiamo bene che quando questa c'è ed è sposata da una capacità di creatività si riescono ad ottenere dei risultati di eccellenza. Quindi volevo ringraziare il consigliere Massimo Cariello che ha favorito questa opportunità dal nostro territorio per fare anche in questa occasione della provincia di Salerno un racconto diverso del meridione d'Italia. Sta per nascere un'iniziativa qui al sud che spero che possa funzionare e spero che possa prendere piede, che è un'Accademia del sud e proprio della televisione e dello spettacolo. Io sono l'artefice di questa cosa, sono d'EPSA, sono un autore televisivo, dicono, storico, anche musicale, storico e mi piace che questa cosa venga fatta al sud perché io sono un ex ragazzo del sud e quindi così come credo di aver ottenuto i risultati io spero che possano ottenere anche tanti giovani perché qui al sud c'è una creatività che veramente ci invidia tutto il mondo perché i fatti l'hanno dimostrato. Quindi stiamo qui alla provincia a presentare questo progetto e mi auguro che possa avere il successo che tutti sogniamo ma nell'interesse anche di tutti quelli che hanno voglia di fare seriamente e professionalmente lavorare in televisione davanti e dietro le quinte perché anche dietro le quinte ci sono tante opportunità di lavoro nel momento in cui uno capisce che ci sono perché l'importante è che qualcuno gliele spieghi. Siamo finalmente alla presentazione ufficiale dell'Accademia Nazionale del Sud di EPSA della televisione e dello spettacolo. Ovviamente ci siamo impegnati a creare anche un'importante sinergia di lavoro tra Asso Music Art e scuola nuova di Giuseppe Bisogna. La fortuna ha avuto questa sinergia anche con l'avalo giustamente della persona, del grande autore che è EPSA che ci ha permesso comunque di poterla realizzare è un punto di riferimento forte per il sud, per il sud specificamente anche per la città di Eboli perché vuole essere un contenitore forte per questa proiezione verso il mondo della televisione e dello spettacolo. Peppe, io passo direttamente la parola per dire altro. Io volevo solo precisare che è un'iniziativa in ambito formativo e accademico tendente alla poi possibilità di ottenere delle occasioni di lavoro, quindi una formazione per il lavoro. Noi cercheremo di coinvolgere e di avvicinare tantissimi giovani che vogliono affacciarsi poi alla professione dello spettacolo, della musica, dell'intrattenimento. Il nostro obiettivo con gli amici di Asso Music Art è proprio quello là, di dare la possibilità ai giovani di trovare nuovi sbocchi di lavoro. Quindi è un intervento finalizzato con la grandissima professionalità del maestro d'EPSA. Noi daremo un tocco ulteriore a questa iniziativa e siccome l'unica esperienza nel mezzogiorno d'Italia, credo che questa attività sarà anche replicata in altre zone della provincia, avremo anche altri riferimenti. Stamattina qui nel salone di rappresentanti della giunta provinciale muoviamo il primo passo e abbiamo questo percorso che certamente sarà irto di difficoltà ma ci porterà a grandissimi successi. Con maggiori successi che abbiamo in Italia. ha firmato come ideatore e come autore programmi come Scherzi a parte, C'è posta per te, Matricole, La Corrida di Corrado e Gere Scotti, Strana Amore, Buona Domenica, Domenica Inna, La Bella e la Bestia, Il Grande Bluff, Tira e Molla, Festival di Sanremo e tante altre ancora. Numerose sono le canzoni scritte e cantate da... Numerose sono le canzoni scritte e cantate da... Sono ogni sera meccate di stelle e nel più bene nel regatello a chi mi ha delle la guardate un pò a chi a d'amore non sa di velo Oh, ma sai, è mai più triste, un po' a proprio meno di banca, un po' di amore, un po' di amore, un po' di amore. E vado via, e lascia sulle labbra una poesia, un po' di amore, un po' di amore, un po' di amore, un po' di amore. E vado via, e lascia sulle labbra una poesia più forte, un po' di amore. Per preparare un incontro con te, che già eri tu altro. La storia mia è quella di un ex giovane del sud che sognava di farcela. Ora è arrivato il momento di mettere la mia esperienza e la mia professionalità a disposizione dei giovani del sud che sognero di farcela. Depsa. Siamo felici maestro di aver venuto qui questa mattina per iniziare questa lunga proficua elaborazione che parte dalla provincia di Salerno. Grazie.